I finanzieri di Catania hanno denunciato 32 indebiti percettori del reddito di cittadinanza, tra cui due persone con condanne definitive per mafia. È stato stimato un danno alle casse pubbliche di almeno 398 mila euro. I militari della compagnia di riposto hanno beccato diversi individui che non avevano i requisiti necessari, tra questi condannati in via definitiva per associazione mafiosa, 10 che hanno omesso di comunicare di avere nel proprio nucleo dei familiari con condanne per mafia, 3 sottoposti a misura cautelare personale, 17 che non avevano comunicato di avere familiari sottoposti a misura cautelare personale. Tutti sono stati segnalati all'Inps per la sospensione del beneficio e il recupero delle somme illegalmente erogate.